siamo nel bel mezzo delle dolomiti lucane vi mostro questo oasi grill dal 1983 vedi c'è un'africa tinta largata a bari qualche altro pazzo che sta guidando la mia gs e queste sono le dolomiti lucane ragazzi diciamo che qualche anno fa sono venuto a pietra pertosa a fare non ho fatto il volo dell'angelo però accompagnati i miei amici osservate tutta l'area distante qui pazzesca questo dovrebbe essere una strada extra urbana secondaria posto dir poco agghiacciante il bagno com'era bagno turco stile non fa niente stile anni venti grandissimo molto particolare perché il posto è caratteristico amore e il cazzo piano 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 ciao